Svelamenti è il titolo della stagione teatrale della regina Margherita di Caltanissetta che accende le sue luci ed apre il sipario con nove spettacoli teatrali, sei concerti gratuiti ogni lunedì e una rassegna fuori abbonamento destinata alle famiglie e ai ragazzi anche con agevolazioni per gli abbonamenti. Questa rassegna teatrale che gode della presenza anche dell'Istituto Musicale Bellini, quindi è una stagione teatrale e musicale, si intitola Svelamenti proprio perché vogliamo puntare un po' l'attenzione su quelli che sono i rapporti tra gli uomini, tra le persone che in questo periodo a seguito del Covid, così come anche per quello che rappresenta oggi la nostra società, spesso vengono trascurati perché entriamo in relazione con gli altri dietro uno schermo. Abbiamo voluto compiere una scelta sia degli spettacoli teatrali sia dei concerti, cercando di mettere in risalto l'importanza della relazione che le persone hanno tra di loro e quindi abbiamo pensato proprio all'atto dello svelamento del sé quando noi incontriamo altre persone nel nostro cammino e questo avviene quotidianamente. Quindi gli spettacoli indagheranno i rapporti. La frase che abbiamo scelto come simbolo di questa stagione teatrale è tratta proprio dal primo spettacolo che vedrà protagonista Giorgio Pasotti insieme a Mariangela D'Abraccio. La direzione è quella di riavvicinare il pubblico, nissano e nonna, al teatro e alla cultura. È proprio la cultura che sarà alla base di un sistema di gestione e condivisione, come detto dal primo cittadino durante la conferenza, che sarà una leva per il centro storico attraverso la cultura, l'arte e l'università. La stagione 2022-2023 vede la partnership del Conservatorio Bellini e del Comune, una stagione duale programmata di concerto per consentire una maggiore offerta ed un processo di conoscenza accademica della musica colta permettendo a tutti di godere delle musiche di Mozart, Vivaldi ma non solo. La progettualità è un unico sentire artistico con il Comune di Calzanissetta e in continuità con altre manifestazioni che abbiamo già svolto in passato e nell'immediato passato, quindi il Pietra Rossa Bellini Music Festival. Rispetto a queste altre iniziative che sono state rivolte a un pubblico più colto, anche perché abbiamo avuto artisti di caratura internazionale, abbiamo coniugato un percorso più fruibile per la popolazione. Innanzitutto è un percorso gratuito, per cui i sei concerti sono assolutamente gratuiti, quindi il pubblico può semplicemente prenotare il posto per avere garantita chiaramente la posizione in sala e sono di un repertorio assolutamente fruibile per tutte le fasce della popolazione e di tutte le età. Abbiamo per esempio, apriamo con il concerto di Natale, quindi che sono dei flauti e cantanti, avremo il recital di pianoforte, quindi avremo le quattro stagioni di Vivaldi e qui questa è una provocazione, perché abbiamo inteso accompagnare le quattro stagioni di Vivaldi, peraltro eseguite come primo violino da Ranfaldi, che è il primo violino dell'orchestra della Rai, che alternerà ogni stagione con una voce narrante che racconterà, con una voce siciliana, quella che era la vita della Sicilia al tempo della scrittura delle quattro stagioni. Ed infine il direttore del Conservatorio Bellini, Michele Mosa, sottolinea quanto il territorio di Caltanissetta sia molto sensibile e colto alla musica e che questa stagione sarà quella del ritorno ai concerti in teatro per potenziare la sensibilizzazione verso la musica.